E' ospite storico anche lui della Genova Calcio, Ottavio Celano. Ottavio Celano che è stato factotum, è stato direttore tecnico, è stato direttore sportivo, insomma ha fatto di tutto e di più. Ottavio, naturalmente la storia continua con questa grande società che è la Genova Calcio. Una grande famiglia soprattutto. Una grande famiglia e speriamo che continuiamo sempre su questi livelli positivi, vediamo sempre di più, abbiamo sempre più ragazzi deserati, i risultati ci danno ragione, i ragazzi sono contenti, i preparatori sono contenti, i mister sono contenti e allora cerchiamo di andare sempre avanti e di impegnarsi sempre di più. Per l'occasione apporgiamo i migliori auguri, di gioia e felicità per tutti i genitori, le famiglie che fanno tanti sacrifici per questi ragazzi, a portarli sotto l'acqua, il freddo e tutto quanto. Un augurio di vero cuore a tutti quanti. A Ottavio, uno dei fondatori della Genova Calcio. Grazie mille. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti.